Per l'Ostresa, prima giornata di ritorno, ultima fatica del 2015 a festeggiare nel derby è la squadra di Giancarlo Boldini. 1-0 firmato da Faraci che a 10 minuti dalla fine, all'ottantesimo, trova la zampata vincente. Match equilibrato, leggera supremazia territoriale della Juvedomo, nei minuti finali, appunto al 35esimo, il gol che decide il derby. Calcio di punizione battuto da Cassani da posizione defilata, calcio di punizione battuto direttamente a rete, il palo in un primo momento salva Zenoni, il più lesto è Fabio Faraci, il capitano dell'Ostresa, che regala il gol, vittoria e i tre punti all'Ostresa in un sabato di festa, nel quale all'inizio della partita c'è stata anche la presenza di Babbo Natale a salutare le due squadre.